allora storiellina horror horror di quei tempi la ovviamente erano storie un po particolari vabbè dai ve la racconto allora questa qui non me l'ha raccontata a casa me l'ha raccontata la mia amica loredana eravamo due bambine piccoline e lei l'aveva raccontata praticamente il marito della sua baglia che si chiamava celestin e abitava la baia quando me l'aveva raccontata aveva lasciato un po così insomma adesso ve la racconto sono sempre cose un po ingenue insomma dunque in dialetto allora a che era uno che faceva su terra morte l'era giuina si era sposata da tantissimo tempo a che era la donna che l'era incinta lui faceva su terra morte e allora lavorava al cimiteri che era sta al funeraldo una porattusa l'era giuina anche si e allora suterà da che la dregno al temporale allora allora metto la dentina dalla fossa però l'era venga sarà da su perché l'era tardi che era al tempo che l'era un po incincia che era però da ciappana saeta la diva aveva tante che c'era da nessun avvocato e domani a passi la suteri e da cia e a guerra fama allora la donna la guerra prepara lì su sul tavolo un po da formaggio un po di salam una minestrina da mangiare se si è tagliù la comincia a mangiare perché la donna la mangia no gadisma come mai ta mangia no sa che cos'è guarda meglio non aveva da mangiare il figlio che ti ha dissi no però che lo mangia in ca e ma come mai ta le mangia comprare prima attacchietta dopo un mese di da andare a fare la spesa e ma ta se ha meglio il paio proprio adesso se ti ha da giù la minestra meglio da mangiare il figlio e adesso mangia sedimi e negozi sarà su ma ta se dopo se mi mangia no se malene magari che in una maggi in faccia viola perché lo mangia mangiata se che se per caso sa tu che ti toccas no e ma poi toccas no magari sa corgi no dai va vedere se ti trovi a ver magari un negozi che in dal paese vizeno magari diverto quel cos'è perché da sei ma c'è l'ar allora lui finisce da mangiare dice tiri sulla bicicletta fa una pedalata va a vedere dal paese vizeno la guarda in due paesi un po' più sembrerla insomma la fa il giro da cipa esma dire a me gaverne negozi né ma c'è la proprio gratuito e sarassi ormai l'era la not quasi vedremo da cal passa da nas dal cimiteri e che ho un'idea la dismo alla mia donna porca miseria de là la resmenga sta tranquilla va dentro dal cimiteri sapeva che era una roba che ha saputo a me ga fa ansi che faceva un po' anche a ribres però che pensa alla sua donna insomma va lì la barra era lì in fronte alla fossa del valabara pian pianin e non tu che l'enda fegato piscine dopo la sarassi la metto i denti uno scartussella purta cadenta in dalla giacca arriva cala donna lì cala dorma sull'ottomana e la sento aumentata da un certo punto stendere più se da duro il ciappa un po' dell'emme dentro un po' da buterta e aggiù a tu che di pei piscinita al fegato e la fa chiusa quale pronga la merlinda al piatto e la cia ma oh ti sa che è adesso deve dormire e ti sa sedere a dormire ma mi sono andato in giro a tu comprare il fegato sta giù a mangiare che ha te lo giù ma fa chiusa lei sa una sandua che la tira sul fegato per la donna la sta senta giù al tavolo e la comincia a mangiare e la mangia da in più che l'aveva lì però nemmeno a mangiare il fegato e la che dice oh beh siamo alle buonche al fegato qui ma da 70 o ha un macellare che l'era vera calurati ti preoccupa snor mangia saltapia si sci almeno attra se tranquilla che il bagai al nas che alle a poste no no mangi da bombarda anzi la prossima volta va a comprare ma la molisci no no sa poi no al vendare più il fegato l'era proprio l'ultima di al che più ti comincia a mangiare quelli basta che tempo in più che l'aveva lì però ne allora la donna la mangia gatti smattasse proprio un bravo bagai ti guardando e 4 in un attaro isci bravo che sta in giro tutta tutta sera a cerca ma al fegato adesso però te do un basen perché guarda proprio so contenta tam e pensa a me e a me bagai e aveva dormito però adesso eh e lui insomma che dice vabbè c'è da mal basen e no che l'era proprio soddisfa perché se aveva cosa che l'era a fare l'era menga una roba da fare insomma e sapeva menga va a chiro lì però di tanta mia donna che dice no perché sa la sa alla mamma guai no 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 proprio in gal diga la calma balki e no 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 tu ma vola su tere più scos basta e va a dormire a dormire lì che dorme a gioco da un po' è la sua sveglia di ma che come tu con te la mia donna magari che a madonna pesciadina non posso sentirà proprio il pe e disse ma due criccio non si è cascata in dalle scuola lì la si è girata la guarda no le lì da fiam dalle con i mana lì disegnere adredurmi con tutta la faccia e al disma sa che a so sogna le menga stata una bella sera da questa qui a sasaro sogna sa me giù a mo dormì ma lì che se indurmentaggio a mo da un po' a mo al senti la propi pe o bestia che stramici fa ma quel che ma tiri pe e sento una rusca attesa voglio il mio fegato voglio il mio fegato dammi il mio fegato io da tirare i pe o bestia se stramici taccale morta cali e vabbè dai speriamo che vi è piaciuta come avevo detto storielle così magari un po' disgustose però ve l'avevo promessa perciò va bene ciao dai la prossima volta vi racconto qualcosa di più allegro ciao a tutti